La musica come risorsa e speranza per infondere coraggio e tenere vivo il senso di appartenenza a una comunità e continuare a sentirsi persone, soprattutto nell'inferno straniante dei campi di concentramento. E' quanto racconta lo spettacolo Songs for Eternity, canzoni dai ghetti e dai campi di concentramento, che l'artista tedesca Utelemper porterà sul palco del Conservatorio di Torino e del Teatro Toselli di Cuneo, nell'ambito delle iniziative per il 27 gennaio, giornata della memoria. Una ricorrenza, quella del ricordo delle vittime dell'olocausto, che in Piemonte verrà celebrata da un calendario di appuntamenti e iniziative all'insegna del dialogo e del confronto, grazie a concerti, presentazioni di libri e laboratori. Tra le iniziative anche è l'installazione, martedì 22 gennaio, di 15 pietre di inciampo, le piccole targhe di ottone che l'artista Gunther Denning incastona nei selciati delle strade delle città europee, in ricordo degli uomini e delle donne vittime della deportazione. A chiudere, idealmente, la settimana di manifestazioni, i due concerti di Utelemper, organizzati dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e dal Polo del Novecento, che venerdì 1 febbraio ospiterà l'incontro tra Utelemper e i ragazzi delle scuole torinesi. Innanzitutto ci aspettiamo che racconti del suo progetto musicale, che è un progetto musicale molto particolare perché appunto parte da questo lavoro sulle canzoni dei campi e che quindi sia la possibilità per il pubblico e per i cittadini di scoprire anche questa faccia di questa autrice che da anni sta facendo un lavoro straordinario di recupero della memoria e di interpretazione musicale fuori anche dai suoi canoni normali di programmazione musicale. L'ingresso al concerto di giovedì 31 gennaio è gratuito, con prenotazione obbligatoria entro il 28 gennaio, scrivendo all'indirizzo mail partecipa.eventi-cr.piemonte.it oppure direttamente all'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale in via Arsenale 14G a Torino. I biglietti per il concerto del 1 febbraio al Teatro Toselli sono in distribuzione all'URP di via Santa Maria 1 a Cuneo, prenotabile alla mail urp-comune.cuneo.it